Rischiano di essere abbattuti 130 capi tra cinghiali e maiali della sfattoria degli ultimi sulla Flaminia. La struttura è finita in zona rossa per la peste suina, per una mera prassi burocratica, ma questi animali non sono allevati a scopo alimentare e quindi non dovrebbero rientrare in questi abbattimenti preventivi. Ci siamo ritrovati in zona rossa, adesso non ricordo bene qual è la modalità con cui questa cosa venga applicata. Di solito utilizzano un compasso oppure vengono determinati dei confini amministrativi. Il fatto sta che tutta la zona di competenza dell'ASL RM1 è sotto zona rossa in questo momento. Il 5 luglio, sebbene noi credevamo di essere tutelati da una deroga del Ministero della Salute e dalle ordinanze del commissario straordinario per la peste suina, che difendeva gli allevamenti non DPA, ossia a scopo non alimentare dai protocolli di abbattimento che stanno attuando in tutti gli allevamenti invece normali a scopi commerciali, ci ritroviamo una visita dei signori dell'ASL di Roma 1 che ci dicono che in realtà se arrivasse l'ordine di abbattimento loro procederebbero senza alcuna distinzione. Questa cosa ovviamente ci ha distrutto. Quindi da un giorno all'altro può arrivare qualcuno e vi può ordinare l'abbattimento di questi animali? Sì, funziona che dovremmo ricevere una notifica di abbattimento per cui poi due o tre giorni dopo verrebbero qui per procedere alla mattanza. Ci sono delle tutele a livello di legge che tutelerebbero i capi che non sono destinati alla macellazione per quanto riguarda la peste suina? Assolutamente sì, ci sono le quattro ordinanze del commissario straordinario per la peste e una deroga del Ministero della Salute fatta apposta per tutelare i rifugi in tal senso. Cinghiali e maiali riescono a dare lo stesso, a empatia, lo stesso grado di riconoscenza, d'affezione e di interazione con l'uomo alla stregua di qualsiasi altro animale a cui noi siamo un pochino forse più abituati ad interagire come interazione, però di fatto i loro sentimenti sono grandi come quelli di coloro che amiamo e che abbiamo normalmente nelle nostre case. Grazie.